Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha firmato l'ordinanza numero 2 del 9 febbraio 2022 contenente ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ecco la parte ordinativa dell'ordinanza fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica fatta eccezione per i soggetti esclusi dall'obbligo ai sensi dell'articolo 1,3 dell'ordinanza del ministro della salute dell'8 febbraio 2022, bambini di età inferiori ai 6 anni, persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo, soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'esterno resta obbligatorio sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato, ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari, nelle ore e situazioni di affollamento, nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi anche all'aperto e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto, quali traghetti, battelli, navi. Si raccomanda ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente a tutela della propria e dell'altrui sicurezza i dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutte le aree terminali, i vi compresi banchine, moli e binari, nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto durante tutto il tragitto, ferma l'osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi.